Buon pomeriggio a tutti ragazzi, sono qui di nuovo con voi su Need for Speed Underground 2 Come da titolo, non so se il gioco è finito ragazzi, no non credo, assolutamente non è finito perché come potete vedere la carriera è al 46% Però non mi fa più andare avanti, non so se il motivo è che la mia auto ha quasi 6 stelle ma non ha completamente 6 stelle Ho provato a modificarla in tutti i modi, non so se voi l'avete già vista così, gialla e con le prese, con l'alettone, le prese d'aria rosse o roba simile Ho provato a modificarla tutto, ho messo anche i rotori, vedete anche che dietro c'è scritto, c'ho messo gli sponsor sulla fiancata sinistra Vediamo se riesco a farvele vedere, aspettate, adesso vado in derapata Eccoli lì Però comunque sono salito un po' ma non più di tanto, nel senso che comunque sono arrivato a 5 stelle 72 E comunque non mi ha sbloccato nulla, quindi io giuro adesso a questo punto non so più cosa fare per sbloccare le nuove gare Quindi se io non me lo ricordo, magari c'è qualcosa da fare ma io giuro non me lo ricordo Se qualcuno se lo ricorda e mi fa il gran piacere di dirmelo io gliene sarei veramente, 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 veramente grato Perché giuro non me lo ricordo, cioè potrebbe essere qualunque cosa ma io non mi ricordo cos'è Quindi mi dispiacerebbe ma non posso andare avanti, ecco Giuro, ci posso provare in tutti i modi Ma ho provato anche a comprare l'altra auto perché avevo uno slot disponibile, avevo la quarta auto Non credo che modificando quella le cose possano migliorare, nel senso che non credo che la modifica della quarta auto comporti la campagna Così posso andare avanti Se me lo dite in 100.000 potrei provarci Però io non credo assolutamente che una volta che ho modificato la quarta auto O che la quarta auto ho comprato la Mitsubishi GT 3000 GT, non credo che la quarta auto modificandola vada a più stelle Posso provarci ma non credo Tutto è possibile nella vita Nel frattempo fatemi sapere, magari voi ve lo ricordate, magari voi lo sapete Io giuro non me lo ricordo Fatemi sapere cosa ne sapete, se voi lo sapete, se sapete qualcosa E se no non so veramente come andare avanti in questo gioco Anche cercando su internet non l'ho trovato molto Che mi sia d'aiuto, va bene Spero di avervi spiegato il problema E nulla, ci vedremo poi con i prossimi video come al solito Bella? Grazie 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 Grazie